Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono qui con Gaggi, oggi testeremo un po' il mio livello. Abbiamo iniziato a dicembre, Gaggi, con questo percorso, non vi abbiamo aggiornato ovviamente su tutti gli allenamenti, tutto il percorso, anche perché è stato abbastanza altalenante, dato un po' i miei problemi di lavoro, la famiglia e quant'altro, quindi con Gaggi abbiamo impostato questo percorso, diciamo, fattibile per tutti quelli della mia età che hanno comunque analoghi problemi, diciamo. Cosa mi farei provare oggi, Gaggi? Oggi andiamo a provare un paio di esercizi per il front e il back per vedere anche qualche miglioramento, sia in isometria che magari in qualche esercizio dinamico. Va bene, andiamo a vedere! Oh, penso di essere un po' caldo, vediamo, dai, cosa faccio? Fai qualche trazione giusto per scaldarti del tutto e poi partiamo con il front lever e il back lever. Ok. Grazie a tutti! Front lever, vediamo, dai, vediamo se riesco con il one leg. Braccia belle tese, scendi più giù, più giù, più giù, più giù, stoppa qua. Tagliamo! Tagliamo! Proviamo col sinistro. Sì. Vuoi riposarti in quattro, perché... Sì. Facciamo un po' di spinta, proviamo il back lever esometria. Ok. Cavolo. Lo proviamo su questa sbarra, in atto? Sì, va bene. Ciao, zio! Prendi un po' le mani se riesci. Ah, mi piace più incasso. Ok. Sì. Sì. Già meglio. Full, eh? Ah, figa, vero. Qua le fai straddle, dai, scendi, 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 scendi. Ancora più giù, sedere, stoppa, stop, stop, stop. E io lo sparo. Ok, facciate che ho le gambelle, lo sparre. Ah, ah, ah. Ok. Ho detto, che cazzo mi viene. Quanto? 5, 6 secondi? Oh! Così, cazzo, va bene. Sì. Cruddle. Oh, 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 blocca, blocca, mi scipiedi, mi scipiedi. Bravo, 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 bravo. Dai, dai, buono, buono. Questa non me l'aspettavo. 3, 2, 1. Proviamo qualche pullata in back lever. Abbasso il sedere, abbasso il sedere, abbasso, abbasso, abbasso. Abbasso ancora, tira. Dai. Dai, ah, ok, dai. Ok. Le prime pullate, sempre così, all'inizio si alza il sedere quando si tira, dopo piano piano bisogna cercare di aggiustare la linea. Però dai, buono. Dai, non me l'aspettavo. Queste non le stavo allenando. Perché Gaggi mi aveva dato quelle, vi ricordate? Che piedi a terra. Esatto, queste qui. Così. Quindi back lever. Sono i primi step sono. Però era un po' che non le facevamo queste qua, sinceramente. Invece ho visto che è andato avanti. Come allenamento invece avevo introdotto, che avevo detto a Gaggi, la panca piana e le dip. Quindi, potrebbero essere degli allenamenti complementari, chissà. Se ne hanno dato un pochettino di forza anche nel back lever. Sì, la panca piana ha dato che è spinta, qualche complementare potrebbe averti anche dato lì. Quindi, poi magari vi faremo vedere qualcosa anche in quel settore. Adesso che dici, Gaggi? Guardiamo la verticale? Anche se è tecnica, così. Non la sto allenando moltissimo. Cioè, lo sfrutto, diciamo, contro il muro. Magari arrivo a casa, mi metto lì. oppure tante volte anche appena ho un attimo di tempo. Però diciamo che non è che la sto allenando regolarmente. Vediamola, provo libera. C'è qua Gaggi che mi assiste. Sì, sì, ti blocco i piedi e poi ti lascio andare. Ah, perfetto. Sì, unisci i piedi. Guarda sempre le mani. Piedi uniti, piedi uniti. Il tuo baricentro? No, 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 non mi muovete. No, l'avevo perso. Devo mandarti avanti perché il tuo corpo era indietro. Riproviamo, eh, ragazzi. Dai. Allora, quindi te mi tieni e mi regoli il baricentro. Sì, mi regola la posizione giusta. Ok, unisci i piedi. Il tuo baricentro deve essere più avanti, più avanti, ancora più avanti. Più avanti ancora. Qua. No, no, non aver paura. Questo è il tuo. Più avanti ancora qua. Siete uniti. Bravo. No, non andare in panico. No, perché mi sento... Ho sempre le mani davanti. Mi sento cadere in avanti, no? E invece no, sei dritto. Perché quando ti metto dritto sei giù. E lì, appena ti metto dritto ti vai in panico. Quindi questa è l'importanza di lavorare in coppia quando si lavora sull'entro. È giusto. Perché io quando lo faccio da solo vi dico... Poi magari lo vedremo in un video che avevo già detto tempo fa, Gaggi, con una stabilometria in cui vediamo la posizione del baricentro. Quello sarà molto bello. E io sento sempre di appoggiare molto sui palmi della mano. Quindi il mio baricentro, Gaggi, mi sta correggendo di portarlo più avanti. Infatti cado sempre, alla fine. Proviamo l'ultima volta. Sì, certo. Quando arrivi a quel momento della paura sei dritto in verticale. Quindi mi tieni, Gaggi. Sì, ti tengo, ti tengo. Più avanti. Qua. Più di uniti. Tienimi. Sì, ti tengo. Ma non avrai paura. Scendi, scendi pure giù. La bisogna lavorare sulle cadute così non vai in panico. Ok. Bene. Diciamo che la verticale ancora mi ha contento di farla con sto paletto. Però, dai, ho capito l'errore che commetto. Cioè, proprio il baricentro è nettamente in avanti. Cioè, lo devo spostare proprio in avanti. Quindi, Gaggi, cosa dici? Cosa devo rinforzare adesso? Eh, continuare sempre con questo programma. Ok. Aumentando piano piano la leva. Ok. Dalla verticale bisogna lavorare sui tentativi liberi. Ok. Ma prima le cadute. Bisogna saper fare il mezzogiro. Quella che mi avevi fatto vedere con il mezzogiro. La provo senza aiuto che vi faccio vedere come cado o se mi spacco in diretta. Ecco, mi stavo spaccando. Vai su. Più su, più su. Più forte. Eeeh, più forte. È una specie di ruota. E adesso non la sto facendo. Forte slancio. Spingi forte su. Oggi mi ha esaurito back lever e tutto quanto. Esatto. Comunque, devo lavorarci molto. Fa anche un caldo pazzesco oggi. Poi noi, brillantemente vestiti di nero, quindi in pandan col parco. Infatti me la tolgo io che non ce la faccio più. Eh sì. Bene ragazzi. Mostriamo il fisicaccio di Gaggi. In modo da mutibarvi. Senza polpacci. Cosa? No. Tagliamo i polpacci. Niente. E vi aggiorneremo anche sullo stato degli avanzamenti dei miei allenamenti. Bene ragazzi. Se questo video vi è piaciuto mettete tasto like come al solito. Ricordatevi di iscrivervi al canale. E al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Benvenuti a... Grazie a tutti.